Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nell'85esima puntata della serie europea, oggi siamo qui con... Si sono, ciao a tutti Simo Ma buonca madonna Scusa, scusa, scusa Non te disturbo, va bene Allora ragazzi, abbiamo finito la farm, abbiamo messo un po' di roba, come vedete, l'ultima puntata è stata un po' brutta, lo so Abbiamo messo qui le galline, abbiamo messo i capannoni messi così Sì, le idropulitrici, anche se le vendi e le ricompri, si bugano sempre sottoterra, fanno schifo, è un gioco schifoso, farming Ecco, abbiamo il gallo Sai cosa fa? Eh? Tipo, a sbassare il terreno in quel punto lì, perché le lele sono soffocate, mi sa perché si livellato, non lo so Eh, si, so, capito, ma non è che posso fare un buchu dove devo mettere le idropulitrici Quello buchu la posso fare? La fossa tettica La fossa? Com'è quei... La fossa, la fossa La foffa, la foffa La foffa, la torta Allora ragazzi, dobbiamo comprare dei trattori nuovi Impedi Compriamo il John Deere, 70... hai detto che sono usciti gli 828? No, mi sono sbagliato, era su F67, sono un gradino Ma anche a me, anche a te, non carica la foto di John Deere 7010? 700.000 a 10 Che è, trattori medi? Sì, è l'ultimo Proprio continuo a... La foto... Continua a... Continua a... Ah, ma nel 3D intendi? Sì No, il 3D non va Ah, sì, hai aiuto Belle strote, mitas No, fanno uno schifo di me Michelin forse sono i migliori Ruote pneumatici... È ingorbo Standard che non si tocca i cerchi Ma che ci facciamo a questo trattore? Non so, lo voglio provare FV... O FH, FH IG 6 77.010 Prendiamo un bai fenete Marca gomme Nokian Configurazione ruote Doppi Stupendo così Però non è calda Pronto? Al bottom Anteriore a questo Così 724 tuning Si suone Che cosa c'è? La 724? No, special Normal Che... 724 Normal Attacco per caricatore frontale? No A colore principale Lo prenderei Indaco Bianco Vello O cuscì Cuscì Vello Nero Per farlo con Dendosimo No Con l'antricambio Che è tutta corsa Sì No Eh no Ognuno Del suo colore Della sua Della sua roba Ho piglio veramente nero? Quante pare? Ho piglio o no? No Nero no Tocca a comprare un mezzo originale Chiesto ho capito io Ma che costa? Il giuntista è vendito? Io voglio comprare un trattore Compra quello che vuoi Trattori grandi Non si dice grande Si dice Impedi Impedi Trattori impedi Do Ah questo 300.010 No Il T7 290 Dai Il corpo su brutto Style Una paralisi Ho pure visto Un 9340 Io Configurazione ruote Senza troppe storie Ci mettiamo Quelli larghi Io il GPS ce lo mettevo Perché Cioè mettiamo il GPS Si dai Ma che ci facciamo Dove andate? Eh Almeno usiamo Il fastra Che quell'altro Solo per la Come si dice? Per la roba Da ruote strette In poche parole Ah dai Mi do C'è successo mai? Eh Eh Zavorra Ah Cominciamo Zavorra Una bella Zavorra Enorme Io quando avevo Visto Ste zavorre Della sewer Per farmi In 2013 Non esistevano Ancora Di base Erano mod Io ero convinto Fossero macchine Fotografiche Ma che Quella piccolina Della sewer Mi sembrava Troppo una macchina Fotografica Quelle c'erano Del 15 Anche Nel 15 C'erano di base Eh ma Ma che Che cazzo Stavo a fare Le macchine Fotografiche Che fanno Che c'è sacio Visto Dovremo Qualc'altro Porf Che ha fatto Non ho senso Lavoro della droga So vato la curva Se so bondo De bris Se so bondo De bris So scapodato So cascato La barra E si scapodata Un po' di mochietto No si è pistato Non si è pistato Lo porto a mano Perché aveva fatto No Sto corretto Faccio Un po' di mochietto Cazzo sta coppina Ma che me lo fa fa Beh in teoria possiamo ancora comprarne uno Cosa compriamo? L'8RT? 8.370RT? Pende cingolato John D cingolato Vuoi dire? No Pende c'è Voglio dire Ma pende c'è Piccolo C'è 340 cavalli al massimo Ah no 430 Ah no Sì sì Allora sì DPS? Sì Certo Guardate che cazzo ci facciamo pure Vabbè Caffodato Bello Bello Questo è un bel sound Questo sì Eh Non ci metto io Eh Quanto Andrebbe che sgarrufa Ok Ora lo consumerò in questo modo C'è un bel sound C'è un bel sound C'è un bel sound Parca buzzana stagatringi alla paglia Ho quanto più io non si sono Perché da lì Ah ci sono in stop È tutto a led Figo Tranne le luci Sì davanti è il led Tu siamo Ti piace il 943 MT? Difende? No Il Valtra Sì No è svuoto Dagli specchi non so cosa tu ci possa capire È veramente C'è quello lì che non vedi niente Quello di destra peggio ancora Quello di sinistra Ma A me è fermato di panza guardare Ah io mi si perca la bravola al centro Beh Ah ragazzi Dato che adesso abbiamo anche Soldi da buttare Compreremo una piantatrice bella grande Ma come la cipatrice no? Eh Una bella piantatrice grande Tipo 12 metri Facciamo mais Compriamo la trincia E trinciamo Ciao Simo Bentornati Ciao Abbiamo fatto nuovi acquisti Abbiamo preso Ufenet Udeuse Ah Sumentatrice Ma ecco io Ma non si è salvato allora Eh Come è? E' rimasto quella cosa a punta Che avevo spianato io Ah no no Aiuto no Bello su mezzo Grazie no un piccolo dopo al limite eh svegne se accorgi lasciato tutta cesa per essere piccola e smorce guarda la ventola bella piccola indoria però non so non so non so ti piace? molto ti condenta? Terence cosa facciamo a 1180 un attimo che sta con tutto lungo sulla Siena tutto lungo sulla Siena tutto lungo sulla Siena tutto lungo sulla Siena ah non è molto giù che te la no beh scherzavo è la più grande la più grande opriamo la FR ma non credo ah vabbè c'è anche il condotto lungo bello il condotto lungo dove lo vedi? mi tassa mi tassa che cazzo è? è una marca di gomme io metterai le solite trellebore che sai sinceramente mi sembrano migliori non mi piace il Michelin bel Michelin ma brutto pare che c'hanno ah la gps ci vuole se ci mettiamo ci mettiamo quelle standard e non quelle larghe di Michelin allora aspetta no standard standard è anche più quella dietro no no Michelin non è brutto quelle ah no porca puttana oh ah no allora no 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 buo è uguale un camion gatto vedi un po' più però come deve fare appena cambi appena di cambi ti metti subito sulle prime gitarghi per l'altro caso? no a me no ti vuoi si scorre le Michelin vabbè si ci compriamo questa qua no abbiamo fatto big acquisti eh ci ho fatto nello sprinter eh? boh no eh che aspetti? ciò che io voglio cammene cammelle e cammelle 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 scegli ma Simo invece parti? no vai la bulgara la bulgara va bene te taki che te piglio unguardo no meglio la bulgara no ne è meglio carmen tu non lo sai eh eh ci sono andato l'altra volta mi ha detto guarda a Simo io gli faccio un regalino la prossima volta che viene si 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 allora mangi ha tappistato? si si ma porca madonna ma qui che deve essere orda eh Samu sta arrivando con la trincia con lo quad davanti con lo quad davanti ma è una guarda minuscola no 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 ma che minuscola pure tu e tre volte l'unpistamento della circonferenza solare aspetta poi basta un attimo la varra per favore e fermati basta la varra e fermati me la pisti esatto eh no aspetta vabbè la pistata no solo di la varra no me la pisti aspetta che te aso ah 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 ma ah ah ma porca madonna ah 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 cuci ci senti ah aspetta che raprimo condotto eh guarda a me aspetta fermo tu ci fermo pariamo dei mongoli dei mongoli ma il più che lo pariamo lo siamo come sa la trebbia la trebbia in che slot va qua? c'è un campo mais il 7 il 6 e il 7 il 17 il 17 dov'è ma il 6 il 7 e il 17 il 6 il 7 e il 17 volendo possiamo comprare il campo 7 no abbiamo il 17 perchè il 7 è tutto storto eh lo trinciamo un po' dopo lo vennemo ah proprio sciardo eh vedi vedi quale dei tre continuati oppure no nishu mi adoro il mio padre non mi vada 4 milioni che stiamo a 2 milioni e 300 mila ma io comprerei se ti devo dire della verità un altro trattore medio eh ma che serve ma non lo so mi avevo mai nata smiare dei territori da ma se ne sono siamo in due eh ah ma sono in due no? tutto visto mi ha mai trovato bracciare sono in demo tutte e due già ci buttano con Gimo poi poi dopo con Gimo uno con Gimo e anche l'altro Sartia eh seguite pure e fa andiamo con lo Sprinter questo ragazzo è uno Sprinter Mercedes c'è Rappre vede ehi venne qua fammelo vedere ti ricordi il il ban quello del G7 che ci sono sì con le porte Rappre chiudi Rappre chiudi Rappre chiudi Rappre si che tipo che ce l'ha scavolato e buttate volte sono su best moment però non mi ricordo il numero porca misè tipo scapotato un sartvio chiudio tipo parliamo scivolata contro l'ultratore torna particolarmente utile per trasportare la seminatrice come la seminatrice? certo sto portando la seminatrice con lo Sprinter e tu che dici che era inutile? beh da dentro fa un po' schifo eh no lo Sprinter 319 questo ragazzo monta un motore V6 da 3 litri 3.000 di cilindrata che sviluppa la bellezza di 190 cavalli cioè voglio dire un V6 da 3 litri voglio dire perché mi è veviato sì ma ci sta un problema no febbraio aprile maggio dove grazie sta? vai in culo che è? non sta con la foto del professore informatica e c'è prova con la professore italiana sta sul gruppo sta ma ma lo semo che te piglio un gorbo perché me lo urcarchi? ma urcarcheremo dopo il limite detto questo ragazzi vi ringrazioissimo per la visione da Dan Timo Samuele è tutto ciao a tutti ciao a tutti